Ciao raga, Matun DG Gaming qui e oggi oggi giochiamo a Sniper Elite V2 l'ho giocato e non l'ho mai messo sul canale comunque è un gioco che è uscito lo scorso estate circa un anno fa dove praticamente sei un cecchino e durante la seconda guerra mondiale e adesso non mi ricordo bene ecco vedete è bellissimo va a rallentatore quando lo colpisci oh no mi hanno visto come cazzo seleziona da dove veniva quel colpo non vedo nessuno ti ho fregato no sto gioco è stupendo ecco l'altro era lì eccolo lo vedo tranquillo adesso arrivo è troppo bello era un po' che non giocavo a sto gioco non mi ricordavo quanto fosse divertente ehm dobbiamo anche altre armi mi sa ecco della Thompson però hanno tutte e poche munizioni questa mi sa che ne è un infinite invece oh ciao ricarichiamo allora qualcosa dobbiamo arrivare là a quel quadrato giallo allora questa è anche sì delziosa ok oddio ah cazzo come come si si fa abbassare forse era meglio se stavo là perquisisci ah perquisisci che davvero cos'è cos'è questo almeno è un armo silenziale questo almeno è un armo silenziale bello bel colpo patoo dove è andato a finire ce ne erano due allora sta musichetta ti fa venire un'ansia no non si può passare qui dai anche mia nonna riesce a saltare un muretto così ah eccolo lo vedo adesso era lì eccolo ah no non era una headshot ricarica cazzo eh mi sa che la tua morte è vicina ahia mmm si fermo fermo di ricarica c'è un altro eccolo eccolo forse il cuore che batte ehm dov'è sto arrivando sto arrivando una cosa che so di sto gioco è che alla fine devi uccidere Hitler sono sicuro che se n'era un altro vabbè tanto meglio questa è la mitrailtrice sono abbastanza teso anche perchè ricominciare queste missioni qui sono una vera quando muori dopo tutto il tempo che sei messo maia adesso lo faccio si non non bene maia la cosa che mi piace le cose sono che la cosa che mi piace una bombola proviamo a farla esplodere sono fatte meglio in far cry potrei farla diventare una serie se vi piace non capisco se sono due punti dove devo andare lì o di qua adesso mi dici che devo andare qui sotto quindi si andava bene prima che casino ok ecco adesso come si c'è un modo di aprirla no oddio una quick oddio avete visto che quick che ho fatto oddio ho preso un colpo fortuna che quello è finito di devo stare più attento quando faccio ste cose questo qui l'ho fatto una quick incredibile no cosa ho fatto ho tolto la mia arma no ridami la mia arma ridami la mia top che ora più tranquilli vedi ahhh strontà aie e si sa-i correazzo Dove è andato? Cazzo Ok Non sto parlando molto Perché No, sulle scale no Ok, per ora è tutto a posto Eccolo Stava fumando Bello Non c'è nessun altro Bene Ma perquisire il cadavere? Ah, mi dà le emulizioni Immagino che dobbiamo continuare a salire Cane, devo stare attento Oddio 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 Che colpo Non è morto? Oh Quanti diavolo sono? Oddio No, no Non muovere adesso No, se muoio adesso Oh No Oddio Oddio Non mi potete immaginare Ma ci sono delle emulizioni Ma ci sono delle emulizioni Ma quanti erano? Ok, sembra che dobbiamo arrivare qui Oh, un nuovo fucile di precisione Bellissimo E non si sanno come costruire fucili di precisione Ho alzato un attimo il volone così potevate sentire Ecco, adesso dobbiamo arrivare dall'altra parte Che richiederebbe scendere Ma quali là? Quanti diavolo? Sembrano degli invorniti Tutti uguali Oh, hanno fatto un passo avanti Immagino che gli devo sparare Se mi vedono da lì mi viene un colpo anche a me Ok, proviamo Ma il primo l'abbiamo preso Distrutto il cranio Gli altri Oddio, ci hanno visto Ricaricando Ne sono rimasti due O uno forse Stavo riprendendo il suo amico Poi gli ho sparato un colpezzo Dai, forse no L'ha ributtato per terra E ha cominciato a scappare Ok Sento dei colpi Non so da dove provengono Ok, avanziamo Sto tipo corre un bel po' Oh, eccolo, ho visto adesso No, ce n'è uno anche qui di fianco a me Io me ne torno dove ero prima Stavo bene coperto lì Aia Non era qui però Ma come fa a spararmi? Dov'è? Ah, c'è un cecchino Beccanè Questa è una modalità facile Più o meno Sì, sono un po' stupido Infatti questa è modalità facile Però se io mettevo Ecco, adesso l'ho visto Oh, figo C'è lo scaldacollo Però peccato che ha poco da vivere Oh, gli è caduta l'arma E' rimasto sul tetto Dov'è? Vabbè Andiamo Procedere con cautela C'è un perfume Oddio Questa è dura È un po' lontano Sì, l'ho preso Poverino E come devo far arrivare dall'altra parte? Qui si passa, no? Ehm, qua Oh, sì, qui No, non sono le munizioni Non mi sembrava strano che dovevo buttarmi in acqua Se l'ha le munizioni? Ah, non ha più ricaricato Abbiamo 23 colpi Uh, pericoloso Però lui se la corre Devo mettere un esplosivo Uno anche la E' un bel gioco Se hai Se vi piacciono i cecchini Oh, molto bello A me piace molto No, non mi hai visto Oh, ce n'erano due lì Allora, io dubito che È un po' lontano E' un po' lontano E' un po' lontano Stai zitto Stai zitto Tei ban sti capai Ho detto qualcosa in tedesco Ecco, ora dove devo andare Dai, dimmelo gioco Sono te Dopo questa missione Cambio gioco Riattacco FIFA Questo è no Questo è troppo Non si può giocare Più di una missione al giorno qui Ti viene un infarto Ecco, ce n'è uno lì L'ho preso? Speriamo Ma non mi hanno trovato Dove cazzo No, se io muoio No Oddio, no 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 Dove mi ha salvato? Ah, fortuna Almeno adesso Dove sono i nemizi E qua ce n'era un altro Eccolo Eccolo, l'ho visto Sì, vai Mi verrebbe voglia di spegnerlo adesso Solo che non lo faccio Perché sono a metà missione O non so O di più No Ma è un genio Come ha fatto a vedermi dietro un muro? No No, non si vede Ho una sensazione che c'è altra gente Sta musica del cazzo Sembra un po' Titanic Oh cane Siamo a 21 minuti Oh, ho andato via la musichetta No, come cazzo ho fatto a vedere? No Dai, vieni oltre Come ha fatto a vedermi? Era girato di spalla Oh Ah, mi sta cercando Chi è? No No No, cane Che palle No, mi tocca rifarlo Mmm Ok, questo abbiamo capito come si fa Ce ne sono troppi Eh sì, poi come ha fatto a vedermi? Eh, vaffan Come ha fatto? Tutte le altre volte non mi ha visto stavolta Ha detto, sai cosa? Tutte le altre volte non mi ha visto stavolta La sera E questo dovrebbe arrivare da qui, eccolo, ok, questi trucchini di merda, questi dovrebbero essere uno là, uno qui, ok, 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 ok finita, non mi stanno più cercando. Mi ha visto il bastardo, adesso mi fa andare nei casolti, sto cretino, dov'è? Tutti i trucchi del casto sono troppi. Sette colpi. No, è impossibile! No, ci deve essere un altro modo, non può essere così difficile. Non mi ha visto mica. E vabbè, a questo punto uccidetemi. Eh sì, mi sono fatto uccidere, sennò non diventava... Allora quello lì che dorme è un po' sveglio. Quello lì è appoggiato al muro solo quando gli pare. Visto che siamo andati sempre dove c'erano i nemici, proviamo ad andare di qua dove non ci sono. o forse si saranno anche qua. Andiamo a vedere. No, l'unico modo era passarvi là. dobbiamo arrivare lassù in cielo. Oddio. Ma quanti cazzo sono? Eh sì, questo dove mi ha... eh no, altri colpi li devo sparare. No, dai! Raga, faccio basta perché no, non ce la si fa più. Se mai proverò a completarlo dai. Comunque, spero vi sia piaciuto, ne faremo ancora. Sottomattoni di gaming qui, ci vediamo la prossima volta. Ciao bella!